È soltanto un pezzo di stoffa? Sì, solo un pezzo di stoffa. Continuo a ripetermelo, eppure, eppure quel pezzo di stoffa è ciò che non mi permette di vedere il tuo sorriso. È in momenti come questi che, guardando meglio chi ho davanti, vedo il sorriso che mi manca. Sì, perché quel sorriso viene trasmesso dagli occhi. Un semplice sguardo riesce a sopperire alla mancanza di due labbra che, dischiudendosi, regalano gioia. Ma gli occhi possono fare anche questo. Gli occhi riescono, dove altre parti del nostro corpo non arrivano. Vorrei raccontare la gioia, vorrei raccontare emozioni, vorrei raccontare di quanto un delicato abbraccio possa racchiudere un mondo. Però poi mi dico che non posso farlo, non perché sia sbagliato, ma soltanto perché quell'abbraccio, a cui io penso, non potrà mai trasmettere le stesse emozioni ad altri. Non è possibile. Ogni abbraccio racchiude una carica di emozioni che non possono essere trasmesse dalle parole. Ogni abbraccio è unico. L'abbraccio alla luce, così come quello in penombra o quello al buio. Ogni abbraccio è unico e i nostri... I nostri sono speciali, sono veri, sono emozionali. Ogni momento lo è, dal semplice scambio di sguardi, per poi passare alla braccia e raggiungere quell'intimità che non potrà mai essere raccontata, ma che al solo pensiero ci fa stare bene e riempire di emozioni.